Questo modulo prevede tre obiettivi di apprendimento principali. Il primo sono le informazioni generali sul funzionamento del monitoraggio degli allarmi nel sistema di videosorveglianza Vigilon HD, seguito da come assegnare, rivedere e riconoscere gli allarmi, e infine come eseguire una ricerca dell'allarme. Il Client Avigilon Control Center è suddiviso in cinque aree, a cui si farà riferimento in tutti i moduli di formazione di Avigilon University. La barra dei menu, la barra degli strumenti, System Explorer, l'indicatore cronologico e l'area di lavoro. Il monitoraggio degli allarmi nel sistema di videosorveglianza Avigilon HD consente di sviluppare flussi di lavoro end-to-end per monitorare e gestire gli allarmi. Gli allarmi sono attivabili da un certo numero di fonti di attivazione, tra cui rilevamento movimenti, attivazione ingresso digitale, corrispondenze a lista di controllo numeri di targa, se si usa il modulo Avigilon HD LPR, eccezione alle transazioni POS, se si usa il motore delle transazioni POS HD, qualsiasi telecamera o errore di sistema, un trigger software esterno da un controllo dell'accesso supportato da terzi o un sistema di gestione dell'edificio. L'impostazione dell'allarme, compresa la configurazione dei trigger, il collegamento delle telecamere e la definizione delle azioni di riconoscimento, è discussa nel modulo di configurazione per la gestione degli allarmi. Per questo modulo si suppone che gli allarmi necessari siano già stati impostati e riguarderà solo il monitoraggio degli allarmi. Il monitoraggio dell'allarme è avviabile nell'area di lavoro cliccando sul pulsante Allarmi nella barra degli strumenti o selezionando Allarmi nell'area Strumenti della barra dei menu. L'area di lavoro per il monitoraggio dell'allarme è divisa in tre aree, elenco allarmi, elenco allarmi assegnati e area di analisi dell'allarme. Nell'elenco allarmi si può visualizzare lo stato dell'allarme, attivo, assegnato o riconosciuto. Viene anche visualizzata la priorità dell'allarme. Questo viene definito durante l'impostazione ed è un numero da 1 a 5. Gli allarmi con priorità 1 hanno la massima priorità. Il tempo indicato nell'elenco allarmi è il momento più recente in cui l'allarme viene modificato su uno dei tre stati. Infine, sul lato destro, è presente il nome configurato dell'allarme. Quando si clicca su un allarme con il tasto sinistro del mouse, verrà aperto nell'area di analisi dell'allarme in fondo all'area di lavoro. Le telecamere associate verranno visualizzate automaticamente nel pannello immagine per rivedere l'allarme e l'ora impostata sull'ultima ora di attivazione. Se l'allarme è collegato a più telecamere, è possibile passare tra le telecamere che usano l'elenco a discesa fornito. Nel rivedere il video nell'area di lavoro per il monitoraggio dell'allarme, si hanno gli stessi controlli per passare tra il video live e registrato, lo zoom e la panoramica, come descritto nei moduli 1 e 2. Viene visualizzato l'elenco con i trigger dell'allarme. Se l'allarme è stato attivato più volte dall'ultimo riconoscimento, verranno elencati i trigger. Si può cliccare su ogni trigger per visualizzare il video collegato a tale trigger e spostare l'indicatore cronologico su quel momento. Si può cliccare sul pulsante Assegna allarme per assegnare l'allarme a se stesso e spostare l'allarme nell'elenco Allarmi assegnati. Altri utenti vedranno l'allarme con lo stato impostato su Assegnato. Se si desidera rivedere l'allarme in una vista separata, si può cliccare sul pulsante Apri in vista. Quando si apre la nuova vista, le telecamere associate vengono visualizzate automaticamente e l'indicatore cronologico viene evidenziato quando l'allarme è attivato. Infine, una volta analizzato l'allarme, è possibile inserire le note sull'allarme e quindi cliccare sul pulsante Riconosci per riconoscere allarme. Se l'allarme è stato configurato con un'azione associata al riconoscimento dell'allarme, quale l'attivazione di un'uscita digitale in una telecamera, le note verranno eseguite. Se la sorgente del trigger dell'allarme è un sistema di terzi, il riconoscimento verrà comunicato al sistema esterno per consentire l'esecuzione di un qualsiasi flusso di lavoro associato in tale sistema. Dopo che l'allarme è stato riconosciuto, verrà elencato nella lista Allarmi con lo stato impostato su Riconosciuto. La selezione di un allarme riconosciuto consente di rivedere gli allarmi riconosciuti e offre opzioni aggiuntive per eliminare o esportare l'allarme. Cliccare sul pulsante Esporta allarme per aprire Esporta spazio di lavoro per esportare il video di questo evento trigger dell'allarme specifico. Il pulsante Elimina allarme è disponibile per eliminare gli allarmi nella lista Allarmi. La lista Allarmi mostrerà tutti gli allarmi del sistema, compresi quelli nello stato riconosciuto se l'allarme non è stato eliminato. Una volta eliminato, non verrà visualizzato nella lista Allarmi fino a quando viene attivato e ritorna allo stato attivo. L'ultimo argomento trattato per il monitoraggio degli allarmi è come eseguire una ricerca dell'allarme per rivedere la cronologia di un allarme. La ricezione di un allarme può essere avviata in due modi, selezionando la ricerca dell'allarme in cerca area di lavoro o cliccando su Cerca allarme nell'area di analisi dell'allarme di un allarme riconosciuto. Per completare la ricerca di un allarme, selezionare l'allarme da cercare a destra e impostare il periodo che si desidera cercare. Si possono trascinare le barre nere nell'indicatore cronologico o usare l'interfaccia del calendario manuale. Cliccare su Avvia ricerca per iniziare la ricerca. I risultati di ricerca dell'allarme vengono elencati di seguito. I risultati mostrano tutti gli eventi relativi all'allarme selezionato, tra cui l'attivazione, l'assegnazione e il riconoscimento. Vengono anche fornite le informazioni sull'evento, il nome dell'allarme, l'ora di avvio dell'allarme e le note sul riconoscimento. Si possono selezionare i risultati della ricerca per mostrare l'indicatore cronologico in tale momento e visualizzare le tre camere associate. Per esportare l'evento identificato, cliccare sul pulsante Esporta questo evento. Grazie per l'attenzione! Ora dovreste conoscere a fondo il monitoraggio degli allarmi, compresa l'assegnazione, l'analisi e il riconoscimento di un allarme e come eseguire una ricerca dell'allarme. Grazie per la visione!